Ultimo turno di Regular Season per il Volle Soverato che ospita domenica prossima al Palascop a Montale. Un'occasione per rafforzare il secondo posto, chiudere al secondo posto questa bella Regular Season. Una partita che sicuramente sarà difficile contro un avversario in cerca di punti salvezza. Sì, sarà una partita come tutte tra l'altro, sicuramente difficile. Noi entriamo sempre in campo con l'idea di non sottovalutare nessuno. Sappiamo i nostri punti di forza, sappiamo dove dobbiamo lavorare. È una bella occasione per noi per concludere bene questo girone di andata, che è comunque dove abbiamo fatto bene. Per rafforzare il secondo posto e magari giocarci in casa anche la prima della Coppa mercoledì. Quindi un'occasione importante per chiudere al meglio questa prima parte di stagione. Sappiamo poi che ci sarà anche la Coppa Italia come inframezzo in vista poi della pool promozione. Una squadra che è cresciuta gradualmente in questa prima parte di stagione, così come anche le tue prestazioni. Ti aspettavi un campionato così del Volle Soverato, anche perché è una squadra che parte anche con tanti giovani nel suo roster. Sì, un po' me l'aspettavo perché comunque anche se siamo una squadra giovane, dall'inizio ci siamo subito trovate bene in palestra. Già avevo visto che tutte avevamo voglia di lavorare e di crescere e quindi c'erano prospettive, insomma, potessimo fare un buon campionato. Si chiude la regular season del Volle Soverato con la partita casalinga in cui la squadra bianco-rosso ospiterà Montale. Un'altra occasione per chiudere al meglio questa prima parte di stagione che vede il Volle Soverato al secondo posto del Girone A. Un'occasione importante anche per il piazzamento in vista della Coppa Italia. Questi sono i punti focali del nostro campionato nella regular season e sicuramente quest'ultima partita potrebbe suggellare un cammino che è stato estremamente positivo. E aprirci la porta con uno scenario importante anche per la Coppa Italia. Una stagione in crescendo quella della squadra guidata da coach Napolitano con un girone di ritorno di regular season ottimo direi. Quindi una squadra che dimostra ancora di avere margini di miglioramento. Sì, diciamo che la squadra nel giorno di ritorno ha dimostrato questo crescendo grazie a un lavoro incommiabile dello staff e all'impegno delle ragazze. Per cui c'è ottimismo di ripeterci e di dare il massimo per questa maglia.